Oltre mezzo milione di euro per la sicurezza delle scuole aretine in vista della loro riapertura a settembre si tratta di finanziamenti ottenuti tramite un bando ministeriale. Abbiamo partecipato e ci siamo attribuiti 520.000 euro che era la somma che ci spettava in base al numero degli abitanti. Di questi 520.000 euro 331.000 andranno in interventi strutturali e 189.000 andranno in interventi non strutturali deputati per esempio agli arredi oppure ad altro che si aggiungono alle risorse che l'amministrazione già aveva rispetto a questo capitolo. I 331.000 sono divisi per i sei plessi, per tutti e quindi sei istituti comprensivi e a loro volta divisi per tutte le scuole che i dirigenti ci hanno suggerito avere necessità di interventi di questa natura. Nel dettaglio i fondi saranno così ripartiti, 82.000 euro per l'istituto comprensivo Cesalpino, 92.000 invece saranno destinati all'istituto comprensivo Piero della Francesca, 67.000 poi agli istituti comprensivi Margaritone, 4 novembre e Severi ed infine 90.000 euro per gli interventi all'istituto comprensivo Vasari. Tutto ciò che non è muro è arredo, quindi possono essere nuovi banchi, non con le ruote perché gli autoscontri non si fanno, ci fanno i banchi veri, quelli normali. Ovviamente laddove il banco era un banco che magari non prevedeva un addistanziamento del metro statico che è il coefficiente di valutazione che ci è stato dato, magari sono banchi insieme ma più piccoli e allora si ne comprano di nuovi. Oppure possono essere soldi investiti nel fare dei percorsi adeguati per l'accesso alle aule che possono andare da percorsi colorati laddove si tratta di bambini piuttosto piccoli oppure a nuovi accessi di entrata per garantire la diversificazione degli accessi evitando di fare quello che ci era stato suggerito, cioè di farlo intemporalmente. Io non posso fare entrare i ragazzi a scuola da una alle sette, quell'altra a mezzogiorno. Quindi per farli entrare separatamente ho due modi, o uso il tempo o uso lo spazio. Abbiamo dato lo spazio creando nuovi accessi di ingresso di modo che si entra tutti più o meno alla stessa ora ma si entra da parti diverse. Insomma sarà un agosto di intenso lavoro per garantire un rientro in classe dei ragazzi in tutta sicurezza ma soprattutto in presenza. Noi siamo stati sottoposti tutti gli assessori d'Italia a una serie di indicazioni divergenti. Inizialmente il computo andava fatto degli spazi sul metro dinamico e avremmo perso il 60% delle aule circa. Poi ci è arrivato un'altra circolare dove invece ci è stato detto che il calcolo andava fatto sul metro statico questo ci ha permesso di ricalcolare e di recuperare più spazio. Poi ci è stato detto che andava combinato giustamente il metro statico con il coefficiente sicurezza in caso di evacuazione e questo ci ha permesso di dover ricominciare a riconsiderare gli spazi. Al netto di tutto questo lavoro le scuole della città di Arezzo rispetto a 6-14 quindi elementari e medie non presentano grosse problematiche. se non in due o tre situazioni più critiche ma perché sono più affollate da sempre quindi nell'affollamento da sempre oggi hanno qualche criticità in più che con questi interventi risolveremo.